Ciao, io sono Stefano e oggi vedremo insieme la prima maglia del Manchester City, la squadra campione d'Inghilterra della scorsa stagione, per la stagione 2022-23, cioè la prossima, quella che deve ancora iniziare, in versione fan. La maglia di casa Puma Manchester City 2022-2023 è leggermente diversa dalle stagioni precedenti. Combina il tradizionale colore Sky Blue del Manchester City con l'amaranto del colletto e sulle estremità delle maniche. Sia il colletto che i polsini delle maniche hanno uno stile simile, con due anelli amaranto che circondano uno bianco. I marchi Puma e Détiade hanno un colore blu scuro, piuttosto che abbinarsi a questi dettagli. I dettagli amaranto sono chiaramente ispirati alla squadra di successo del City della fine degli anni 60, guidata da Colin the King, che è onorato con una grafica sul colletto interno. Cosa ne pensate? Secondo me questa maglia è molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. Ho letto diverse opinioni discordanti, ma devo dire che secondo me è molto più bella di quella della stagione scorsa. Poi mi direte voi nei commenti cosa ne pensate. La maglia comunque è fatta veramente molto bene, con tutti i particolari giusti, con le cociture che non danno fastidio, con i colori perfetti e quasi incredibile. Si trovi soltanto al costo di 24 dollari e 99, incluso spese di spedizione. E vi ricordo che in descrizione trovate un link per aiutare il canale ad acquistare altre maglie, ma soprattutto per avere un nuovo, un coupon per voi da 5 dollari. Quindi il costo diminuisce ancora. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per vedere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti!